Il porto di Pescara riveste un'importanza strategica in termini di sviluppo economico della città e va assolutamente rilanciato. Ne è consapevole il presidente della provincia, Guerino Testa, che ha scritto una lettera al ministro per le infrastrutture Maurizio Lupi e alla senatrice pescarese Federica Chiavaroli, chiedendo di inserire l'intervento relativo al porto cittadino nel provvedimento Sblocca Italia. Il porto del capologo adriatico, scrive Testa nella lettera, va assolutamente rilanciato e un'occasione straordinaria è rappresentata dal provvedimento Sblocca Italia. Testa si aggancia alla logica abbracciata dal presidente del Consiglio, Matteo Renzi, la logica del si può fare e ne approfitta per sottolineare quanto sia strategico il porto per la città, per l'Abruzzo e per la sua economia, da sempre legata anche al mare, alla pesca, al turismo. Puntare su questa infrastruttura, aggiunge, è una necessità e sarebbe mio, per far notare il presidente, perdere questa chance straordinaria, specie in considerazione del fatto che ci sono già progetti cantierabili da 3 milioni di euro finalizzati a garantire sia il dragaggio che interventi propedeutici all'attuazione del piano regolatore portuale. Nella lettera il presidente ricorda anche i problemi causati in passato dal mancato escavo dei fondali alla marineria e alle altre categorie che lavorano attorno al porto, costrette ad un lungo stop, all'interruzione dei collegamenti con l'altra sponda dell'Adriatico e alla impossibilità di attività in sicurezza di mezzi come petroliere e navi da crociera. Non possiamo rischiare di farci sfuggire questa opportunità, scrive ancora Testa nella lettera, invitando il ministro e la senatrice a fare quanto nelle loro possibilità affinché nello sblocca Italia ci sia anche un po' di sblocca Pescara. Mi è stato posto il tema del porto, abbiamo il problema per esempio su...